ciao a tutti ragazzi sono luke e benvenuti in questo nuovo video questo è un video non è un live un video vero e proprio sono in compagnia di akim bonanos ciao a tutti ragazzi e come sottofondo vedete ragazzi un pacchetto di minecraft 152 in beta si tratta della ultimate no scusatemi della direwolf 20 però è ancora in beta non la trovate sulle ftb noi abbiamo avuto una password per poterlo scaricare però abbiamo aggiunto un paio di mode infatti le mode sono 108 di default noi siamo arrivati a 115 abbiamo aggiunto la meteor mode quella di meteoriti e la metallurgi quella che aggiunge un sacco di materiali proprio simile diciamo alla mia serie in live e detto questo vuol dire che la mia serie live andrà avanti tutti i giorni live di minecraft mentre qua registreremo solamente per youtube per cui video verranno un po meglio io e kimbo in un bel server di 32 giga che ne dici mamma mia mi stanno già tramando le mani che voglio giocare nerdare si ragazzi nerderemo in questa serie e ragazzi fate voi questo qua è un video anticipo serie diceteci nei commenti se vi piace vi piacerà vorreste vedere il continuo di questa serie per cui vorremmo vedere tantissimi pollici in su ma tanti 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 e perché se non sono tanti 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 noi la serie la faremo lo stesso e no scherzo non la facciamo ragazzi entriamo un attimo nel server manu呢 dieci sci cambiare nononasera sisi si si quellipi questo che non daremo tutti infatti non sto scherzando ragazzi bene anche c'è chi nel server tanto la mappa la ricreiamo siamo in siamo inn creative siamo in creative tanto per ci poderemo주x tutti fighetta e direi di anche del server più che altro perché con tutti questi meteoriti il server già dovrebbe crashare voilà arrivano ecco ma che cazzo no ma hanno visto che sei sceso il meteorito quello tutto colorato che quello è rarissimo o porco cazzo ma stanno ancora cadendo o porco cazzo o porco cazzo ragazzi ora abbiamo lanciato un po tanti però sappiate che basta manu basta manu basta sappiate che meteoriti cadono da soli esatto guarda che bello colorato belli però ma che cazzo ha costruito qua sopra i templichi usiamo questa casa usiamo questa casa no adesso ricostruiamo un bel mondo rifacciamo la serie ragazzi il video finisce qui un bacione un abbraccio a tutti come al solito continuate a seguirci in live continuate a mettere pollice in su se non avete messo prima mettetelo ora siete costretti e obbligati e ci vediamo nei prossimi video sempre se voi volete il continuo di questa serie oppure no un creeper alieno ehi tu telefoni casa no oh cazzo ma perché colpiscono la gente e vola no il creeper alieno mi ha droppato il red meteor gem quello che cercavo sempre io in live ma scusami un attimo ma è un bug no vedi boh sarà qualche mod o perché siamo in creative aspetta che mi tolgo la creative scusami no non ho più chiaro ah perché siamo in creative manu oh cazzo un calcio le date cazzo stai combinando perché avvora la gente che figata la nuova creative si ragazzi questo pacchetto è totalmente aggiornato un altro alieno marzia madonna che pugno possiamo giocare a box è bello che fa pure il rumore dei pugni bene ragazzi il video finisce veramente qui lo so che volete continuare a seguirci ma ci seguirete ah non vi ho detto un'altra cosa ragazzi essendo tutto aggiornato abbiamo 115 mode per cui 35 pagine abbiamo un sacco un bordello un'infinità di api guardate qua ci sono addirittura le api quelle grosse i calabroni che cavolo sono non lo so lo scopriremo tutto nei prossimi episodi da Kimbo e Luke è tutto dove è Kimbo? ci sono ci sono ciao a tutti ciao a tutti ragazzi che belle stelline che escono ciao a tutti